Dare un po' di sorriso a questi bambini che hanno una giornata difficile e che provano a recuperarsi, quindi stare qui con loro è pure speciale per me. È un pomeriggio pieno di emozioni che non ho mai provato perché non sono mai stato in posti come questi qua ed è veramente bello poter regalare un sorriso a queste persone che comunque sono un po' meno fortunate di noi quindi se deve essere il piccolo sacrificio venire qui lo si fa volentieri. Io ho invitato chi ha desiderio, chi ha piacere, chi ha voglia di passare una giornata all'aria aperta compatibilmente con gli impegni ovviamente dell'allenatore e della squadra, io invito a Formello. Se questo è il modo per poter accomunare tutti e per un giorno essere o tutti in piedi o tutti sulle seggiole a rodelle, quello è.